Astorri e Tintinelli, terza. Non nascondeteci perché nelle nostre interiorità non ci sono solamente le viscere, vero o no? Ha questo cuore di ieri. Non nascondeteci perché per noi una stretta di mano è come un pato di sangue, vero o no? Questo nostro spettacolo sarà un'ouverture disgustosa, un flore de mal, un requiem in do bemolle. Grazie a tutti.